E' andata bene, soprattutto perché qua spesso ci sono bambini che escono correndo e se succedeva poteva succedere veramente un dramma, perché il mezzo senza autista era allo sbaraglio. Dalla piazzetta qui, Monte di Pietà, fino a qui, quindi saranno 15-20 metri. E' stata una traiettoria tutto sommato breve, ma che poteva avere conseguenze ben peggiori, quella di un camioncino della Contarina, pochi secondi in cui il mezzo senza conducente ha percorso la leggera discesa di via San Vito, in pieno centro storico a Treviso, andando a sbattere contro la vetrina della merceria Il Paradiso delle Donne, mandandole in frantumi. Da una prima ricostruzione sembra che l'addetto della nettezza urbana fosse sceso per recuperare un bidone da scaricare, quando il mezzo si è mosso, forse per un guasto meccanico. Questo spiegherebbe la perdita consistente in strada di olio frenante, mentre tra commercianti e residenti il sospiro di sollievo collettivo i rilievi sono stati affidati alla polizia locale. A quanto pare deve essersi sganciato probabilmente il freno, da come dicevano, insomma.